La fallaccia del team DevOps. Ciao, io sono Michele e se sei alla guida di un team di sviluppo che funziona ma senti che potrebbe fare di più, allora io vorrei essere il tuo consulente. La falsa credenza, la fallaccia di quello che è il team DevOps. Spesso nelle grandi aziende, ma anche quelle di medie dimensioni, ormai si comincia a trovare sempre di più il team DevOps. E lo vediamo qui anche su LinkedIn, per esempio, è pieno di annunci di lavoro per posizioni di tipo DevOps Engineer, Cloud DevOps Engineer anche qua, un altro DevOps Engineer, Systemista DevOps, Systemista DevOps eccetera. Ecco già qui, vediamo la parola Systemista DevOps, mi fa storcere il naso, ma andiamo con ordine. Generalmente questo team DevOps viene creato con l'obiettivo di unire le pratiche del team di sviluppo e il team Operation per facilitare i rilasci introducendo automazione e così via. Però ci sono, oserei dire che questo è un antepattern, ci sono dei problemi. Perché? Primo, DevOps è nato innanzitutto come movimento che univa il dipartimento sviluppo e le pratiche del team Operation per farle lavorare più in sintonia, evitare l'effetto del ti lancio lo zip oltre il muro e tutti i rangi ad installarlo e quindi condividere pratiche, difficoltà, esperienze e conoscenze per andare a migliorare l'esperienza degli utenti finali. Ora la mia domanda è, come può essere che introducendo un terzo attore, questo team DevOps, si possa andare a semplificare le cose? Quello che in realtà ho creato è un'ulteriore interfaccia, cioè dove prima c'era un team Development che doveva parlare con Operation e viceversa, quindi con una interfaccia solo, ora ne ho due, perché ho un team in mezzo che deve parlare da una parte con Development e dall'altra Operation. Quindi io ho il mio obiettivo di migliorare, in realtà ho complicato la situazione. Secondo, e lo vediamo qui dietro, DevOps è molto di più che semplicemente automazione del deployment. È una trasformazione culturale, porta con sé dei modi di pensare, dei modi di organizzare il lavoro, dei modi di confrontarsi, di gestire la leadership, di imparare dagli errori e così via. Oltre a ciò devono e possono anche essere considerate approcci architetturali o addirittura andare a pensare al deployment come una feature dell'applicazione. Per arrivare a raggiungere quelli che sono i deployment a zero downtime bisogna anche pensare a livello architetturale, come progettare la propria applicazione. Ecco, quindi per questo si parla di mindset, non è semplicemente un'automazione di qualcosa che installa un exe, una libreria al posto mio invece che farlo manualmente. Quindi quando un'azienda implementa o cerca di implementare un team DevOps in realtà ha uno o due obiettivi. Il primo è quello di creare un platform team oppure quello di creare un tool team. Il primo è quello di creare un platform team appunto, cioè si intende un gruppo di persone il cui compito è quello di mettere a disposizione degli strumenti in maniera tale che i team in particolare di development abbiano a disposizione tutta una serie di funzionalità in modalità self-service. Quindi il potersi per esempio creare server, strumenti di monitoraggio, regole di monitoraggio, poter avere dei servizi che mandano email, poter creare storage, gateway, configurazione dei DNS. Insomma, il platform team diciamo che rende sia in un ambito più difficile, ma potrebbe benissimo essere anche in ambito on-prem, ma soprattutto cloud, rende, mette a disposizione degli strumenti per i developer per creare. Il platform team non implementa feature di per sé, ma implementa strumenti su cui gli altri costruiranno le feature o i server su cui gireranno le applicazioni. Dall'altra parte è un tool team, quindi uno strumento, un team che crea strumenti che vengono utilizzati e riciclati all'interno di vari team in un'azienda. Quindi non sto dicendo che questi team siano sbagliati o non ci debbano essere, anzi tutt'altro hanno la loro utilità, però chiamiamoli con il loro nome e non chiamiamoli DevOps team. L'unica accezione che potrebbe esserci e dire che potrebbe avere senso utilizzare il termine DevOps team è quello di intenderlo come un team di trasformazione culturale per adottare nuove pratiche e mindset nell'azienda, un po' come i team di trasformazione agile. Il compito di questi team è quindi quello di trasmettere le conoscenze, di fare evangelismo, di diffondere i valori, di incoraggiare la cultura DevOps tramite formazione, eventi e così via. Dovrebbe essere quindi estremamente esplicito che lo scopo del team di DevOps è appunto per guidare, incentivare, incoraggiare una trasformazione e non implementare. Per quanto riguarda il mio pensiero sui team DevOps e col fatto che siano un antepattern, ci fermiamo qui, mi raccomando. Se da questo video hai imparato qualcosa oppure ti è piaciuto, iscriviti al canale, metti un mi piace per rimanere aggiornato sulle ultime uscite. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.